Restano parecchi interrogativi sulle ricerche interrotte nella giornata di ieri nella località Bosco Camerine nel comune di Albanella. I militari della giornata di ieri hanno interrotto le ricerche e non si sa se riprenderanno in futuro. L'unica certezza che è rimasta di tutta questa storia sono i dubbi e il clamore che questa operazione ha suscitato nei cittadini residenti del posto che li ha portati indietro nel tempo quando in quel territorio si nascondeva il più grande boss della camorra organizzata Raffaele Cutolo, scappato dall'ospedale psichiatrico di Aversa e nascosto in un bunker proprio in quel territorio. Gli scavi dei militari non hanno portato alla luce nessun cadavere e neanche rifiuti interrati come si ipotizzava. L'operazione dei carabinieri del distretto provinciale antimafia, che ha visto la presenza anche di due magistrati sul posto, ha fatto seguito alle rivelazioni di un pentito che avrebbe indicato un punto preciso dove scavare. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che con un escavatore hanno proceduto a scavare nei terreni indicati dal collaboratore di giustizia. Sono tanti i dubbi e gli interrogativi sui quali gli inquirenti dovranno lavorare in futuro per fare chiarezza su questa vicenda che si spera possano essere sciolti nel più breve tempo possibile.